e gli organizzatori che hanno dedicato tempo e impegno per realizzare questa tre giorni che ci permetterà di vedere quelle che sono le bellezze naturali, architettoniche, storiche del nostro territorio. Dalle piedi, un esempio, abbiamo alle nostre spalle, le balze che sono all'orizzonte, ma anche borghi, coltivazioni a olivi e vidi tipiche del nostro paesaggio. Saranno 60 chilometri in cui potremo vedere e godere il nostro territorio. Sarà un cammino per alcuni individuali, per altri appunto per godere in compagnia tre giornate che saranno alietate anche da momenti di intrattenimento e visite guidate all'interno dei musei. Grazie.